Su questo bellissimo calcio di punizione di Boban, il primo gol della squadra rossonera. Boban è salito di molto nella graduatoria degli stranieri del Milan. Il raddoppio è venuto su un gol di forza, su un tiro di forza di Rijkaard sul centro di Papen. Come avete visto, Rijkaard bomba e 2 a 0. Secondo tempo è gol di Simone su una respinta del portiere della squadra. Cegoslovacca, il gol di Simone e infine su invito di Lentini della sinistra, buona la partita di Lentini, il gol di testa di Jean-Pierre Papen. 4 a 0 per il Milan e passiamo adesso alla Coppa delle Coppe.